Buongiorno amici di Chiasso TV, siamo in collegamento con Andrea Barlocco, direttore di Procreavita a Lugano e il dottor Cesare Taccani, che invece è un ginecologo dello stesso istituto. Con loro parleremo di un problema molto importante, fondamentale, vitale nel vero senso della parola, che è l'aumento del tasso di infertilità che si sta registrando poi in tutto il continente europeo, compresa la Svizzera ovviamente, e quali sono le proposte, che cosa la scienza può fornire come soluzione per questo problema. Ecco, magari cominciamo da lei, direttore. Se può farci un quadro di cosa vuol dire infertilità in aumento oggi? Allora, su questo argomento ovviamente non voglio rubare il mestiere al dottor Taccani, al ginecologo, però sicuramente è una delle problematiche maggiori che oggi noi riscontriamo, almeno nel nostro lavoro, perché la nostra clinica si occupa quasi esclusivamente, o direi prevalentemente, di infertilità e di procreazione medicalmente assistita. Quindi il nostro obiettivo è quello proprio di fornire alla popolazione, ormai da vent'anni, perché proprio quest'anno cade proprio il nostro compleanno a settembre. Auguri allora! Esatto, grazie, in questo campo, quindi abbiamo un'enorme esperienza che abbiamo in qualche modo maturato in parecchi anni, e quindi noi cerchiamo di offrire le migliori tecnologie che oggi la scienza mette a disposizione per poter bypassare questo problema che indubbiamente è abbastanza importante, infatti Cesare sicuramente può essere più esaustivo del sottoscritto. Grazie a tutti!